Ancora certamente troppo presto per parlare di sfida decisiva per il tricolore, ma il match del Family Club, valevole per la sesta giornata della Serie A, Champions Cup e Lita Amatori, tra quelli del calcetto e Bakuku, può quantomeno dare indicazioni molto importanti, quanto precise. Nella prima frazione l'unico pericolo è portato dalla squadra di casa con Alessandro Pintus, bravissimo sul tentativo da pochi passi effettuato da patron Ludovico Manprin. Nel secondo tempo i biancorossi partono decisamente più spigliati e grazie alle immagini realizzate al campo dal nostro Andrea andiamo a vedere quello che succede. Carta, estremo difensore dei Viola, ha subito il suo bel da fare per evitare il gol dello 0-1. Sugli sviluppi di questo calcio d'angolo però la compagine di Renato Diana andrà in vantaggio e vediamo un pochino come. Il pallone innocuamente sembra arriva a Ferru che si inventa un destro clamoroso. Biancorossi avanti, il gol del raddoppio subito dopo l'autore, manco a dirlo, è Giovanni Tuponi. Vero e proprio leader offensivo della formazione biancorossa, Bakuku che rischia di segnare anche il terzo gol prima che Alessandro Pintus certifichi la sua serata di grazia sulla conclusione dei due passi di Camoni. Finisce così, punti pesantissimi per il Bakuku che spugna 2-0 quelli del calcetto.